carissimi fratelli e sorelle gioia pace in abbondanza a tutti voi la grazia del signore sia sempre con tutti voi riempi la vostra vita la ricolmi della sua presenza e vi trasformi come ha trasformato tanti anni durante la storia della chiesa oggi la chiesa ricorda due grandi santi prima di tutto san clemente primo ma primo papa e vivendo poi anche martire di lui si ricorda una lunga lettera che scrisse cristiani di corinto siamo al termine del primo secolo e quella comunità si erano create delle divisioni e questi cristiani ricorsero a san clemente per dirimere le loro questioni all'interno della chiesa da tenere presente che a quel tempo era vivo ancora l'apostolo san giovanni ma viene riconosciuto come pastore supremo successore di pietro il secondo successore di pietro il primo fu san lino secondo successore di san pietro san clemente primo papa che ricorda i corinti come anche san paolo aveva scritto allora delle lettere benché alcuni brani fossero un po' difficili da interpretare e lui rifà la storia della nostra redenzione invita tutti questi cristiani ad essere una cosa sola e l'altro grande santo san colombano monica irlandese che venne in europa fondò vari monasteri e fu grande maestro di vita spirituale e la chiesa ricorda anche una beata oggi che vogliamo presentare davanti a tutte la beata enrichetta al fieri che era chiamata la mamma di san vittore era nata nel 1891 e 22 anni entrò tra le suore della carità quelle che una volta lavoravano negli ospedali principalmente negli ospedali fondati per questo questo motivo si ammalò gravemente rimase per quattro anni allettata per una tubercolosi spinale ma lei tutti i giorni con grande pazienza affrontava la malattia e si affidava totalmente alla madonna voleva essere totalmente sottomessa all'amore materno di maria e tutti i giorni bevevo qualche goccia dell'acqua di l'urde e una mattina si ritrovò perfettamente guarita e nella città dove abitava d'asti fu veramente una notizia che colse tante di sorpresa e l'istituto la trasferì a san vittore a milano dove lei svolse tutta la sua vita a recuperare le detenute a tenere contatti con la famiglia divenne la madre di san vittore chi entrava in quel carcere trovava un conforto una luce una madre un amore che li seguiva non seguiva le detenute come criminali gente dissoluta pericolosa ma come figli da amare e la chiesa l'ha proclamata e beata nel 2011 era detto a tutti noi fratelli per quella quello spirito di amore che il signore vuole da tutti noi tutti noi siamo presi da dalle ingiustizie che stiamo a cui stiamo assistendo oggi con la confusione non si riesce più a distinguere la destra dalla sinistra ciò che è vero ciò che è farso ciò che è giusto ciò che non non lo è ciò che deve essere vissuto ciò che deve essere invece respinto ecco noi oggi ci troviamo in questo stato allora il giudizio verso chi non la pensa come noi chi avversa la fede chi ci perseguita come dice Gesù nel Vangelo diventa dentro di noi una tentazione costante eppure il signore ci chiede in mezzo a queste situazioni di non mai di approvare il male Dio non approva mai il male ma in mezzo a queste situazioni far trionfare la testimonianza della sua misericordia possiamo allora annunciare anche a chi non crede che rispettiamo il loro modo di vivere non approvando il peccato in cui si trovano ma senza giudicarle condannarle dobbiamo invece proporre che il cuore di Dio è misericordioso verso di loro che il cuore di Dio è quel cuore del quel padre che li ha creati e che vuole la loro salvezza non la loro dannazione vuole il loro amore ma l'altro ti perseguita e tu risponde amorevolmente come Gesù sulla croce padre perdona loro perché non sanno quello che fanno ma per queste anime Gesù ha dato la sua vita sulla croce per queste anime Gesù si è sacrificato e si è immolato perché vuole per ordine del padre che nessuno vada perduto ecco allora l'anime di questa beata che si unisce a quella di Gesù fa suo il cuore di Gesù e il Signore vuole che tutti noi fratelli ci lasciamo trasformare come lui stesso ci dice oggi nel Vangelo dove parla dei tempi difficili che sarebbero avvenuti allora aggiunge Gesù avrete occasione di dare testimonianza mettetevi dunque in mente di non preparare per prima la vostra difesa io vi darò parola e sapienza così che tutti i vostri avversari non potranno desistere né controbattere sarete traditi per fine dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici e uccideranno alcuni di voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto con la vostra perseveranza salverete la vostra vita ecco quando il Signore ci ispira, fratelli, ad affrontare ogni situazione con questo spirito e la prima lettura del Vangelo di oggi dal Libro della Procrisse ci presenta una visione avuta da San Giovanni che vede che l'opera di Dio viene compiuta e vede un mare di cristallo misto a fuoco e coloro che avevano vinto la bestia la sua immagine e il numero del suo nome stavano in piedi sul mare di cristallo hanno cedere divine e cantano il canto di Mosè il servo di Dio e il canto dell'Agnello grandi e mirabili sono le tue opere Signore Dio Onnipotente giuste e vere le tue vie e le dalle genti o Signore chi non temerà e non darà gloria al tuo nome perché tu solo sei santo e tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te perché i tuoi giudizi furono manifestati vedete la gloria di coloro che rimangono fedeli alla parola di Dio e vingono l'avversario vingono Satana con la forza della fede nell'Agnello e il Signore è colui che dà vittoria ci dice il Salmo perciò cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia egli si è ricordato del suo amore questa frase teniamola sempre presente fratelli Dio non divendica mai i suoi figli non smette mai di amarci anche se ci lascia nella prova per qualche tempo ma questo è sempre una gioia più grande Signore non ti lo diamo e ti benediciamo ti ringraziamo tu hai posto nel cuore dell'Oni credendo lo spirito di vittoria e vuoi che nessuno si arrenda di fronte alle versità della vita tu ci doni la gioia di lodarti anche in mezzo alle tribolazioni ben sapendo che la tribolazione produce costanza la costanza è la virtù provata la virtù provata la pazienza e la pazienza produce la speranza Signore riempici sempre più di questo spirito di potenza e di grazia perché tu sia glorificato nella tua chiesa e tutti gli uomini amano a vedere la tua gloria e a tornare a te ti chiediamo tutto questo per intercessione della tua Santa Madre a cui hai affidato la cura di ognuno di noi come la Beata che oggi veneriamo Enrichetta Alfieri si prese cura delle donne di San Vittore così la tua Santa Madre si prende cura di ciascuno di noi a te sia gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen e tu Vergine Santissima attraverso il tuo amore materno rivela la grande premura del Padre verso ciascuno di noi Donaci di essere fiduciosi in te e di abbandonarci al tuo amore materno a nole gloria di Gesù tuo figlio nostro Signore che vive e regna per tutti i secoli dei secoli Amen e la gloria del Signore oggi fratelli risplendi in voi e attraverso di voi si manifesta ciascuno di quanti vi avvicinano perché anche i loro cuori siano innamorati di Gesù e abbia aver fiducia della Madre di Dio che sempre intercede per noi Amen